Ciao, mi chiamo Sara Ricci, sì, c'è anche il mio cognome, ho 22 anni e aiuto, sono già in crisi perché devo parlare di me, che poi me lo dice, faccio l'attore così insomma parlo di tutto tranne che di me, racconto la storia di un'altra persona, quando in realtà non è così, visto che i miei personaggi alla fine ci si mette sempre qualcosa di sé, sono in trappola, aiuto, sono un po' lunatica però a periodi, nel senso che ho periodi molto felici e periodi molto tristissimi, mi faccio consolare da questi bellissimi tempi, faccio l'università di Pisa, faccio la scienza della comunicazione, sono al terzo anno, ho finalmente capito di cosa si tratta, grazie a Dio, e vabbè a parte tutte queste sciocchezze, mi piace tantissimo ascoltare la musica, vivo, esisto grazie alla musica, in particolare alle canzoni tristi, le canzoni tristi sono le stane della vita, io sono le stane della vita, ma che cosa sto dicendo, vabbè, no, stiamo calmi, non ti vogliamo troppo, mi piace tantissimo ascoltare l'Anna del Ray, in particolare, mica sola da morire, mi fa piangere tutte le mie lacrime, mi spreme e poi mi rimette a posto, meglio di prima, più precisa queste mani, grazie, grazie tantissimo per avermi ascoltata, perché lo so che è difficile, lo so che è difficile, parlo tanto, ma tantissimo, questo video per me durerebbe tipo in eternità, se fosse per me questo flusso di coscienza che non smette mai, ciao, grazie, basta, continuiamo qua, adesso lo stop sul serio questo video, stoppiamolo.